Voci da Sanremo E allora ragazzi cosa dire a voi questa canzone che è stata già premiata dalla stampa quindi già siamo a buon punto Beh è una magia che diventa sempre più grande no? Se ci piace quello che sta succedendo perché siamo venuti qui con grande serenità con una bellissima complicità E in buona compagnia di Ornella, di Gino noi ci conosciamo da un bel po' di tempo abbiamo collaborato insieme E abbiamo scritto per Ornella e non potevamo desiderare altro Sì No, insomma è una cosa che è successa abbastanza rapidamente non tanto il lavoro all'inizio del brano perché è un brano che ha una gestazione lunga Un progetto di Toni che è cominciato un po' di tempo fa però questo sviluppo Sanremo, Vanoni, il fatto che fossi coinvolto io, Lavezzi, Baglioni Cioè si è creata improvvisamente una spirale che ci ha coinvolto tutti e ci ha portato oggi fino qui Ma vi sareste mai immaginati che ci fosse tutta questa attenzione? Voi naturalmente avete scritto alcune delle pagine più belle della musica italiana Ma che poi che vi ritrovasse sul palco e che ci fosse proprio questa grande aspettativa che poi è stata premiata in maniera strabiliante Beh sai non dico che abbiamo giocato facile con una grande artista come Ornella perché lei ha una voce talmente Apre bocca e apre la bocca della storia della musica ma proprio della vita musicale e non solo Poi Ornella è stata una delle donne più controcorrenti, una delle donne più intelligenti, eleganti, imprevedibili Credo che questo si sente, si vede dal suo portamento nella vita di quello che ha fatto in questi anni E noi siamo felici perché in qualche maniera facendo anche gli autori avere una voce così pensante Una voce così penetrante è il massimo sia per la scrittura che per il fatto di stare lì a sostenere un progetto musicale Sì mi sembra che sia una... a volte si dice che le cose riuscite sono frutto di lavoro, controllo, competenza Ma è anche il caso che porta le persone al momento giusto a collaborare, a stare tipo Antini Che adesso... scusami, va bene, ogni tanto mi parte, scusate No dicevo appunto che porta le persone a collaborare nel momento più giusto per loro Nel senso che io e Tony già è qualche anno che scriviamo cose insieme, avevamo qualche inedito e cose del genere Ornella aveva già lavorato, ma forse, penso anche a qualche anno fa che avevo lavorato con Ornella Sentivo che c'era una tensione in lei, mentre in questo momento c'era la disponibilità di tutti e la voglia Quindi forse a volte anche fuori dal nostro controllo le cose accadono nel momento migliore Allora voi avete vissuto il palco di Sanremo sia come autori ma anche l'avete vissuto anche come solisti Io ricordo entrambi le performance, giuro, c'è la rassegna stampa, ho dato 10 all'epoca Ma come vi sentite? Cioè quanto il fatto di avere un Claudio Baglioni, un collega alla fine Che abbia dato comunque la forza e la voglia di tornare a questo festival Calcolando pure che non ha tagliato la canzone a tre minuti ma gli ha dato questo largo respiro dei quattro Beh lo dici proprio a me perché io proprio nel 2004 avevo una canzone che durava 4 minuti e 5 e 3 secondi E la volevano tagliare, no? Immaginare che poi non ci sono riusciti perché è come, non so, anche la donna cannone Sto parlando di durata perché poi la donna cannone è una canzone intoccabile Non puoi tagliare una storia o una canzone che ha una, c'è proprio una dinamica di storia emozionale, no? Invece qui non c'è questo problema, qui anzi lui ha allungato a quattro minuti Qui si protegge la canzone, si proteggono gli autori, si protegge anche il tipo di spettacolo Che io ogni tanto tra un ristorante e un'intervista intravedevo in televisione C'è tanta musica, non ci sono fronzoli e questa è una cosa importante perché è il festival della canzone italiana Poi a ritornarci dopo tanti anni ci torni con più consapevolezza e più serenità, no? Perché in questi anni sono successe tante cose belle, grazie a Dio Si gode di ottima salute, come si dice, artistica E allora ci torni, e poi ci torni anche con le persone più vicine a te Perché io, Gino, lo sa benissimo, ho una grande stima di lui, del suo percorso Noi siamo due cantautori atipici, no? Abbiamo sempre scommesso su progetti particolari E oggi finalmente abbiamo queste due mani che c'è l'autore e c'è il cantautore Che quando le vai a intrecciare fanno un bellissimo matrimonio Io credo che bisogna imparare ad amarsi Assolutamente, bisogna imparare ad amarsi, ad amare se stessi Che non è un atto egoistico, ad amare profondamente È difficile, non è facile amare se stessi E avere il coraggio anche di essere felici Ma non solo quello, bisogna imparare anche a perdonarsi E a volte anche a lasciarsi quando dice quando è finita Che non è una resa, ma è, come dire, si parte con un'altra forma d'amore, no? Ci sono cose che a un certo punto della vita finiscono Ma se riesci ad alimentarle con altre strade Credo che sia il segreto dello stare veramente bene Anche all'interno di una cosa che ha fatto il suo percorso E le belle storie, chiedo a Gino, hanno anche dei belli interpreti Perché io credo che poi questo brano con Ornella, Pacifico, Bungarov E la presenza di Alessandro Preziosi Con il suo sguardo un po' bello e dannato Uno degli attori più importanti, anche lui, del palcoscenico italiano Impreziosirà ancora di più questa performance che andremo a vedere appunto sul palco Siamo curiosi molto anche noi Abbiamo fatto una prova, domani lo rivedremo sul palco Ed è sempre bello vedere un artista quando esce dalla sua pratica Dalla sua competenza In questo caso un attore che si troverà a misurarsi col canto Con delle grandi voci, tra l'altro Ornella, Tony Insomma, con tutta la nostra, invece, il nostro specifico E poi sono molto curioso di vedere questo sottointeso seduttivo Che c'è nel brano, c'è la seduzione mi affascina ancora Proprio perché è una cosa che Ornella, avendo vissuto così pianamente E' ancora lì, e sono sicuro che lì ci sarà comunque un'elettricità Che Ornella già vedo con noi C'è un'emotività e una forza seduttiva che quella donna non perderà mai Alessandro è bello, ha questa presenza Ma anche questo retroterra teatrale Che credo creerà ancora di più un legame tra di loro Ha scelto proprio un attore, Ornella ha voluto proprio un attore Che venisse fuori dal gioco della musica E questo può creare sicuramente un'attenzione particolare intorno alla canzone Io a questo punto chiudo il cerchio Perché, lo diciamo, bisogna imparare ad amarsi Ad odiarsi e qualche volta anche a lasciarsi Come dicono Bungaro, Pacifico e la straordinaria Ornella Vanoni Ragazzi, incrociamo le dita perché siete tra i favoriti E grazie Grazie a voi, ciao Ciao, grazie